Sì, penso che è stata una partita come pensavamo noi, dura là avanti, però anche abbiamo fatto lo che abbiamo allenato, quindi penso che è stata una bella partita per noi e abbiamo dimostrato una volta in più che dando tutto possiamo vincere a tutta la squadra, quindi penso che dobbiamo continuare a essere così. Sì, loro sappiamo che là avanti avevano un po' di più di peso di noi, il dry è stato come pensavamo noi, che loro entravano e spingano subito, però penso che abbiamo fatto una step in più per dare tutto oggi, una volta l'abbiamo fatto bene, una volta l'abbiamo fatto male, però penso che allenando questo sappiamo che cosa abbiamo fatto male e lo possiamo migliorare per la prossima partita. Abbiamo difeso tantissimo alla fine, con uno meno anche, però penso che là abbiamo dimostrato lo che noi volevamo e lo che è la squadra e niente, abbiamo dato tutto e continuiamo a darlo tutto sempre. Sì, è veramente una sensazione bellissima aver fatto 50 partite con questa maglia e sono felice per me e anche felice per la mia famiglia che sempre mi segue dall'Argentina e anche a tutti i tifosi che sempre stanno là vicini, sempre. Niente, voglio ringraziare loro, alla società e al mio compagno che sempre stanno là vicino a me. Sì, sì, adesso abbiamo una settimana di riposo, ma penso che questa settimana aiuterà anche per la prossima partita che sarà più dura che questa, però niente, questa settimana riposiamo e dopo torneremo in campo per allenare, per vedere video, per fare tutto, per stare pronti per l'Eister.